Assessore Tomolini, la giunta comunale di Martinsicuro ha adottato due provvedimenti per differire il pagamento di alcuni tributi comunali, vista ovviamente l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Quali sono questi provvedimenti? Abbiamo praticamente provveduto alla sospensione delle rate dei pagamenti per i tributi comunali accertati nel periodo che va per le rate che sono comprese tra marzo e giugno. Quindi in pratica queste rate saranno trasferite alla fine del piano di ammortamento, quindi in pratica si potrà evitare di pagarle. Poi abbiamo il discorso della TOSAP, la Tassa Occupazione a Repubbliche, per il discorso dei mercati che attualmente per il Covid sono chiusi. Quindi qui abbiamo disposto la sospensione della rata di aprile e anche il ricalcolo del tributo dovuto per tener conto del periodo di chiusura. Ovviamente l'abbiamo fatto per tenere conto delle notevoli distrettezze finanziarie a cui i cittadini fanno incontro in questo periodo, per mancanza di lavoro, per presenza di gas di integrazione o peggio per le attività che sono praticamente completamente chiuse. Ecco Assessore, le chiedo anche se ci saranno poi altre misure, sempre riguardo ovviamente l'emergenza dovuta al coronavirus, che riguarderanno anche l'aspetto economico, le chiedo anche soprattutto nello specifico riguardo anche il turismo. Ovviamente il vostro comune vive anche di questo, soprattutto di questo. Ovviamente stiamo già lavorando e stiamo studiando per varare tutto un pacchetto di misure che possano andare proprio nella direzione di tener conto di quella che è la situazione in atto, è una situazione assolutamente eccezionale. Quindi lavoreremo sul discorso della Tari, ci stiamo già interrogando sul discorso dell'imposta di soggiorno, perché no, e anche sul discorso dell'IMO, quindi tutto quello che sarà, rientrerà nelle nostre possibilità per venire incontro ai cittadini, alle attività economiche, ai lavoratori dipendenti e comunque a tutte le fasce della cittadinanza, anche quelle più deboli, perché no, faremo tutto quanto è il nostro potere per poter gestire questa fase di estrema difficoltà che stiamo vivendo con il discorso del richiuso prenatto e soprattutto anche la fase della ripresa, per poter assistere un po' tutti a rientrare in carreggiato.